e finisce così a San Martino di Luperi il fila batte il Famila 68 a 66 sì abbiamo fatto un primo tempo direi straordinario le ragazze sono state molto brave ho cercato di ruotarle il più possibile in modo che non si stancassero troppo visto che stasera eravamo in sette per l'assenza di Tonello sono state veramente straordinarie erano concentrate abbiamo fatto un buon lavoro in difesa anzi direi un ottimo lavoro limitare loro è molto complicato il terzo quarto è venuta fuori la loro voglia di vincere ma direi che noi abbiamo stretto i denti molto e poi siamo riusciti a controbattere alle loro scelte offensive e anche difensive con ottime soluzioni bravissime le ragazze complimenti alle ragazze vorrei però dedicare la vittoria al nostro presidente che questa settimana ha avuto un grave lutto e quindi questa vittoria la dedico a lui sì è abbastanza incredibile perché è stata una partita molto fisica e sul piano fisico loro sicuramente avevano più risorse di noi più chili più centimetri quindi temevo che alla fine avremmo potuto soccommere invece abbiamo tirato fuori invece che appunto i chili centimetri cuore abbiamo approvato di tutto un paio di episodi anche fortunati rimesse e l'abbiamo portato a casa siamo state veramente brave a crederci perché una volta che ci avevano ripreso era facile dire vabbè loro sono schia e sono più brave e invece siamo rimaste la soddisfazione enorme per carità ricordiamo sempre sì che loro giocano la coppa che sono più stanche e tutto quanto ma se ne abbiamo vinto quindi ce la godiamo era una partita molto difficile e siamo state brave soprattutto a riprendere il ritmo dopo il terzo quarto che siamo calate e questa è una dimostrazione secondo me di una grande squadra sia dentro che fuori dal campo siamo molto contenti di aver portato a casa questo risultato e buon Natale a tutti sì guarda ogni partita noi ci crediamo anche se schio, capolista abbiamo tirato un buon percentuale il primo tempo quindi questa è una buona cosa però soprattutto abbiamo lottato fino alla fine il secondo tempo non è sempre bellissima ma sono orgogliosa perché abbiamo lottato fino al pallone un buon regalo mi sa per tutti quanti quindi grazie a tutti per essere venuti qua ci ha dato un'altra mano c'era tanta energia dentro il palazzetto e buon Natale, auguri, un buon regalo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti